anche se c'era anche stanno facendo i ragazzi anche una petizione per i punti canali su change.org eh ma ci sta sono inutili non fanno niente come le vostre ragazze ma per Ivan hai un piccolo cadeau cos'è un tortino? no un cadeau un regalo un cadeau al cioccolato? no io gli comprerai uno di quei bei set con tutta roba da bagno ok ok tipo la barba lo shampoo una trussa una trussa con tutta roba da bagno bagno aspetta che carico la sigaretta un secondo ah ho messo l'emoji del tipo che va sulla tazza del cesso così almeno potete spammare altro quando non sono inquadrato che illuso eccola no ok non so non sta scammando bella omi un saluto da pescare a cuore viola a cuore viola a cuore viola ciao Cristian grazie adesso è tornato grazie Alex per i due mesi ma sono sicuro che lo combineranno presto con lo sugar perché nessuno dice che tu non pisci ma che fai anche altro eh mi sembra che sugar vinca allora possiamo fare altro? vai shara 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 stone oggi il compleanno di pamelona lo sai è il compleanno di pamelona degli anni 90 ah allora scammiamo Ivan scusatemi compleanno di pamelona ma non ci ha invitato pamelona no ma penso che faccia una cosa tra intimi non ci ha invitato pamelona grazie chiedersi ciao ben da lì ciao c'è lì bella bella lì bella lì allora abbo chietto come può un ape essere attratta da queste? come può essere una vittima di questa stupida trappola? cvc grazie grazie il meglio dust come può un topo essere l'ittima di questa stupida trappola? e gli orsi non capiscono la vicinanza al pericolo va bene va bene grazie nabbo eccala grazie testa bene bene testa bene signor testa le live di ieri mi hanno ricordato questi momenti a tutti tutti i momenti ti hanno ricordato vedo se me li ricordo anch'io allora questa qua grazie oggi quanto fa il milanomi? 6 a 0 questa qua me la ricordo grazie raschi questa me la ricordo volevo fare i complimenti a EMP per intrattenerci ogni sera questa Roma con Manny Fresh questa Alpitti questa qui Manny Fresh e il sottoscritto non mi ricordo dove forse a Lugano ma ti rendi conto? oh oh grazie Mario questo è Sanremo 7373 lui non mi ricordo questo me lo ricordo io e Simone che siamo su un cane questo è Simone a Milano al campo delle bocce questo io da qualche parte non si dica che non sei uno streamer internazionale? eh sì guarda c'è gente di tutta età tutte le etnie a Capitan Content vecchia fiamma della live vecchia fiamma della live il Capitan Content sembrava un po' identico a quel ragazzo là identico c'è le stesse identiche cose identiche però pochi lo conosceranno il Capitan Content oh formazione di squadra di Twitch la vediamo la meglio alla sinistra alle natale Martinsal alla sinistra Rinsal prima punta Simone Panetti Capuziel a tutti di 99 Capuziel esterno destro io centrocampista destro Enk dietro le punte il Masseo a sinistra Ivan Grieco terzino sinistro Francesco Rovazzi difensore centrale insieme a Paolo Idolo e sulla destra Zano e in porta al maestro Bruno Stianco no ma io non voglio giocare vicino a Masseo che poi mi spiega che non gli passo la palla Gintonico premi un bello carico grazie grazie mille oh aspettate sto vacchierando no aspettate scusatemi ok sto vacchierando quando a 8 anni la messa ti chiedeva aiuto per spostare il banco visto che Bella Omi secondo te a che punto è il processo di trasformazione di Twitch in piattaforma mainstream rispetto per chi brilla grazie ancora un po' lungo grazie Sergei per i due mesi ok liquo di Omi a tolla 2 minuti e 22 ah era un sogno e sono tre grazie Rina il cane grazie meno male che non sono morto veramente ah ma il titolo il titolo spoilerava già tutto ecco l'ecco è stato messo buonasera Omi complimenti per le live ma ti rendi conto che sei il migliore e il più vero streamer d'Italia SKSKSKSK ok grazie parenti a tolla o nove ma si è perso il tuo amico le cose più fascinose al mondo Zanzara cosa ok va bene a me ci sarà simpatico grazie Stone Cold Omi si va in scena poesia in movimento cos'è Shakespeare noi alle otto siamo cosa siamo noi alle otto con la nostra telefonatina ok i ragazzi di ieri quando glielo hanno detto ah dà l'occhio devo mutarmi eh ancora di nuovo Martina al mare va bene è un po' cringe ma ci sta è un po' cringe ma ci sta io quando era un asilo riprendevo le carte di Pokemon che mi aveva sequestrato la maestra ero io a 15 anni 16-15 anni che facevo le mie cose sono un attimo anche in diretta radiofonica il punk dice anarchia il pop dice muoviti io dico lui dice questo lei dice quello io dico mi piacciono le melanzane no sense ma di quello bello si 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 divertentissimo oh ma Lore ma cosa c'hai c'hai cos'è che io dico c'hai cos'è sui denti ah ma sei primi interi prima in tendenza speriamo no e sono sei no sono sette tre i 9 minuti più caldi ragazzi si vengono in un medio giullare non credo ma tu non hai visto ieri? no, non tutto non hai visto che è evidente l'8 di gennaio? certo, certo, lascia entrare Ascanium sì, ho trovato degli persiani e l'ho detto ma conoscete questa canzone? gliel'ho cantata e l'abbiamo ballata l'hanno messa al volume al massimo in un bar ah, top! e schema nomi rosca ah shit, io ho i coi magari no no, basta cos'è che hai comprato Lorenzo? una piadina tutto sto casino per una piadina? sì, che sarà arrivata a Fulgola grazie Icaro oh, migli ti vedrei bene su Bratzels no, adesso l'angelo azzurro riporta la pace oh, free sdrumox in the chat ammazza oh perché sembra che faccio del sesso con sdrumox? ma chi è quello lì giù? a destra? magari è un autoritratto dell'artista grazie c'è il Gallo c'è il Maestro Giorgio dagli occhieri c'è il Tata K il Gallo il Maestro la bandiera Simone Capuziello e Marco Merrino forse sei tu la Venere di Hank ma a che ora aspetta a che ora l'ha postato questo? l'ha postato alle 22 ore fa quindi un po' premonitore un po' premonitore del tuo nudo figurativo te voli stacca rararara con ma prima te voli stacca io ciao posso prendere lei si, ma quanti hai? io 35 e 30 lei ti faccio un un indovinello chi la fa la fa per vendere chi la compra non la usa chi la usa non la vede cos'è? il l'ombra chi è che compra l'ombra? la mala dopo un po' di suggerimento ok senti ma io non sapevo che era minorenne vabbè ho già visto ok va bene Hank VR Omi ok giusto comunque vedere le foto della nostra infanzia potrebbe essere vivente tu hai fatto vedere solo quelle dalla scuola ma ce ne saranno altre non ho la foto della mia infanzia qua Hank sai com'è? però io te ne posso mandare una interessante va bene te voli sacca una prima te voli sacca ecco qua ce l'ha fatta? posso smutarmi? si mi sono smutato ok cosa? vediamo mi è venuta su whatsapp mhm questo sei tu Hank? ah si erano altri tempi credo che non siano i tuoi veri capelli che non siano i veri tuoi capelli ok finito oh finito così il meme finito così il reddit eh vabbè quello dietro sembra analizzator così il green screen strecciato dici un po' un po' ok diciamo ok faccio f5 vado sui nuovi vado sui nuovi vediamo se c'è qualcosa di nuovo eccolo qua ok ok giusto comprare un condizionatore lamentarsi e usarlo come scusa per non fare niente è finita così? finita così ragazzi finita così oggi reddit così allora abbiamo prima di uscire prima di uscire prima di uscire penso che secondo me potremmo fare un'ora di di robe grazie Chabalala che era un giocatore del Sudafrica giusto Chabalala e lo jabulani domani ho la maturità vorrei una toccatina fatto grazie cioè auguri Marco cioè bocca al lupo grazie al cazzo oh mio occhio che si è intravista la proboscide che fuoriusciva dal costume probabilmente cerca di prendere un po' d'aria visto che non esce da una settimana ok va bene 3dp per il numero siamo tutti in lutto chi è che è morto il numero? chi è il numero? il numero chi? va bene grazie luto ecco ecco ok va bene basta rendite allora